Allora, vediamo un po', dovremmo esserci, vediamo un po' se intanto si connette qualcuno. Ok, mi si sente, mi si vede, datemi un feedback. Si sente? Allora, ok, perfetto. Mi è stato detto che si sente, quindi da Instagram sì, da Facebook non so. Allora, ok, perfetto. Allora, buonasera, questo è l'incontro formelidiano ovviamente che ringrazio di avere la possibilità a cui posso partecipare. Insomma, e ringrazio appunto gli amici di Diversamente che mi hanno pensata per questo incontro, per questo incontro dedicato appunto a delle letture a contrasto del tramonto. E' il diciottesimo incontro, per cui ho deciso di proporvi un autore a me caro, Gian Pietro Lucini, che sicuramente è giustamente collocato fra questi autori che lottano contro il tramonto per una successiva alba, per una nuova alba. Ecco che Gian Pietro Lucini è un autore dimenticato dalla letteratura italiana del Novecento e ho deciso di portarvi questo autore, alcuni estratti di alcuni componimenti di Lucini, tratti appunto dalle sue raccolte poetiche tarde, quelle del 1909, le revolverate e le nuove revolverate che sono invece del 1913. Ecco, è un autore che si staglia assolutamente contro l'ordine costituito, fa autore di un controcanone letterario nuovo da ricercare all'interno della tradizione letteraria italiana e che si oppone fermamente all'annunzio, che si allontana da ogni tipo di classificazione, allergico ad ogni tipo di categoria. Lucini incarna e allo stesso tempo combatte proprio quel tramonto di cui le letture di questo ciclo appunto devono trattare, trattano. E questo tramonto per Lucini è la letteratura fin de siècle, quindi il delicato passaggio tra dal mondo del vecchio, il mondo vecchio, l'Ottocento, al mondo nuovo, alla modernità, al Novecento. Ecco, Gian Pietro Lucini è un autore, vi dicevo, Comasco, di Como, nasce a Milano nel 1867 e muore prematuramente il 13 luglio del 1914, a Breglia, nella sua Como. Ecco, ha avuto una vita tempestata e minacciata dalla malattia, la tubercolosi ossea, questa tabe che lo mangia piano piano, fin da ragazzo, e che in qualche modo lo costringe a subire vari interventi chirurgici all'interno della sua vita, nel corso della sua vita. E tant'è che nei primi anni del Novecento deve addirittura, nel 1902, deve amputare una delle gambe, ma non la prende male in realtà, perché ritiene che le gambe siano inutili all'intelligenza. Quando poi invece, nel 1914, alla fine del 13, inizio 14, i suoi medici gli consigliano di amputare anche la mano destra, egli si oppone fermamente, estrenuamente, perché la mano destra rimane l'unico valore con cui può garantire ancora una lotta all'interno della sua produzione poetica. Ecco, che quindi non vuole piegarsi alla malattia, che ha già preso tanto, perché questo è un aneddoto intimo di Luscini. Vedrete che Luscini è un personaggio particolare, tant'è che una volta amputata la sua gamba, vorrà tenerla, infatti la farà imbalzamare, e la terrà all'interno del suo studio a Memento, che la guerra e la sua produzione poetica così pugnace non è tanto verso l'esterno quanto contro se stesso. È un autore, quindi, mens sana, come si dice, come si definisce lui, mens sana in corpore vili. Si forma con Zola, quindi i suoi esordi sono quelli di un narratore zoliano, naturalista. Passa, una volta assaggiato, ben presto, i limiti del metodo naturalista, passa al simbolismo. Il simbolismo cos'è per Luscini? In realtà è il grido del ribelle contro la consuetudine, contro l'abitudine. La consuetudine è stagnante, un pelago da cui la poesia ci può tirar fuori, la poesia simbolista, perché la poesia può avere un messaggio, deve avere un messaggio. E questo è il principale scopo lusciniano. È ovvio che di fronte a questa sua consapevolezza c'è anche quella del fatto che in realtà in questo periodo la letteratura è monopolizzata dalla figura di Gabriele D'Annunzio. Figura che Luscini osteggia a partire dalle cinque giornate di Milano, dal maggio milanese, dal maggio di sangue del 1898. Ecco, da qui capisce Luscini di dover inserirsi all'interno di una poesia che ha un messaggio, ha uno scopo e deve in qualche modo produrre delle persone coscienti. Cosa che invece Gabriele D'Annunzio non fa, secondo Luscini, produce solo bellissimi versi. Ed è questa la differenza principale, ed è questo il motivo di tanto astio verso l'edificio estetizzante d'Annunziano. La poesia quindi deve essere, e il poeta soprattutto, deve essere immanente nel reale, deve essere conscio di quello che è lo Stato, la politica, la vita sociale, la realtà sociale. Non solo un semplice autore lontano dalla letteratura, quindi si rifiuta Pascoli, scusatemi dalla realtà, si rifiuta Pascoli, si rifiuta D'Annunzio, si rifiuta anche quella che sarà poi la svolta crepuscolare, ovviamente. Ecco, il 1898 è quindi la conversione dalla teoria alla prassi. Ecco, che quindi qual è l'opzione che ci può dare Luscini di fronte alla giusta alternativa al D'Annunzianesimo imperante dei primi anni del Novecento? Il Vate, per essere tale, deve avere un messaggio, come dicevamo. Pascoli è ovviamente troppo deboli per essere un Vate, una guida, D'Annunzio ha fin troppa personalità e Luscini lo ritiene insincero. E rappresentano la consuetudine loro, l'abitudine stagnante, una poesia sterile. Per trovare una reale alternativa a questi autori, si deve cercare e si deve pescare a mani piene all'interno della tradizione, la tradizione di autori ribelli, autori che lui definisce Ghibellini, Pugnaci, e vede Dante, ovviamente, come primo anello di questa catena, il Dionisiaco Foscolo, l'Apollineo Leopardi e anche il Carducci delle Ode Barbare. Ovviamente Luscini si pone a fine di questa catena di autori della tradizione, che dovrebbero diventare della tradizione. Luscini un Vate potrebbe esserlo in realtà, ma il problema è che non suscita, non riesce a suscitare nel pubblico una presa, non ha presa sul pubblico, è inascoltato, è inattuale. Questo blasone leopardiano dell'inattualità se lo porterà praticamente appresso per tutta la vita. D'altra parte, però, un personaggio così pugnace, appunto, ribelle, non può non destare l'attenzione dei futuristi. Ed ecco che, più o meno dal 1905 fino al 1909, Filippo Tommaso Marinetti e Luscini intrattengono una sincera amicizia e anche una cospicua corrispondenza. Grazie all'influenza di Marinetti, Luscini trova in qualche modo la possibilità di pubblicare, pubblica nel 1908 per le edizioni di poesia Il Verso Libero, un grande saggio critico del primo novecento, di letteratura ovviamente, e poi si può pubblicare la sua prima, la raccolta poetica di cui vi parlavo precedentemente, Le Revolverate. Le Revolverate che hanno, fin dal titolo, hanno un suggerimento futurista ed è proprio Marinetti che spinge e convince definitivamente Luscini a decidere per Revolverate. Ecco, ora ovviamente Luscini è un essere multiforme, abbiamo detto all'inizio che non è categorizzabile ed ecco che infatti non può essere d'accordo con la tabula rasa che strenuamente volevano compiere i futuristi. D'altra parte, in questo modo, allergico ad ogni ismo, che sia naturalismo o futurismo, si decide quindi di allontanarsi definitivamente all'indomani della pubblicazione delle Revolverate che presentano tra le altre cose una prefazione di Marinetti, una prefazione futurista. E tant'è che, diciamo che, la cesura netta fra futurismo e Luscini si ha con le nuove Revolverate che sono finite, sono concluse nel 1913 ma non saranno pubblicate prima del 1975 grazie all'opera filologica di Edoardo Sanguiniti. Ecco, ovviamente tentare una disamina approfondita di quelle che sono i componimenti che andremo a toccare, che andremo a leggere in realtà, è impossibile in questa situazione. Quello che cerco e quello che credo, spero, che questa lettura vi possa suscitare è la volontà di leggere anche senza bisogno di nessun influsso esterno, università o cose o studi letterari per apprezzare quello che è il ribelle Pugnace e Luscini. Ed ecco che apriamo con l'autoritratto, ovvero l'autologia, come dice lui, un autoritratto che apre le Revolverate del 1909. Già come avevano fatto Alfieri, Foscolo e Manzoni, insomma, si presenta come suo solito in maniera del tutto particolare. Ecco, questo è l'autoritratto appunto fornitoci direttamente dall'autore. E questo autoritratto, questa autologia, segue direttamente una domanda, un componimento che è per chi. È una domanda che si pone Luscini. Quale sarà il pubblico di queste revolverate? Quale sarà il pubblico che saprà gestire queste saporite bestemmie Luscini? Come spesso le definisce. Ed è appunto una domanda che non ha una risposta ancora. Sicuramente si chiede l'autore chi sarà in grado di gestire questi fiori selvaggi che l'autore, in realtà, con lo stelo spinoso, che l'autore coglie ai margini delle strade battute dalla gente e non i gigli e i gerani che si vedono, i fiori addomesticati che si vedono ai balconi dei signori. Per chi vogli raccogliere questo mazzo di fiori selvaggi, stringerli in fascio nel gambo spinoso ed acerbo, tutti i fior vi sono di sangue e di lacrime, raccolti lungo le siepi delle lunghe strade, dentro le forre delle boscaglie impervie, sui muri sgretolati delle capanne lebrose, lunghesso ai margini che lambe e impingua il rivolo inquinato dai veleni decorso dal soborgo alla campagna. Tutti i fior vi son che, pei giardini urbani e decaduti, e tra le muffe di funghi, s'ammalan da morirne, e gli altri che sboccian sfacciati e sgargianti penduli al davanzale ed equivoci balconi meritrici. Tutti i fiori cresciuti col sangue e con le lacrime ai detriti. Per chi io canto questi fiori plebei e consacrati dal martirio plebeo innominato in codesso sdegnoso rifiuto di prosodia, per l'odio e per l'amore, per l'angoscia e la gioia, e per ricordo e la maledizione, per la speranza acuta alla vendicazione. Ed è per voi, acefale ed oscure falangi, uscite da un limbo di nebbi e di fumi, tra il vacillar di fiamme porporine, in sulla sera, dai portici tozzi e sospetti di nere officine. Ed è per voi, pei quali non sorride il sole, schiavi curvi alla terra, che vi porta e rinnovate al torneo dell'armata, ma non vi nutre vostra. Ed è per voi, pallide teorie impietosite di giovani, di vecchi e di bambine inquiete tra la fede e i desideri, tra la tentazione della ricca città e il pudor permaloso della verginità. Per chi, per chi questa lirica nuova, che bestemmia, sorride, condanna e sogghigna, accento sonoro e composto dall'anima mia, contro a tutti, ribelle e superbo, incotesto rifiuto imperiale d'astrusa prosodia. Ecco che quindi questo componimento di certo sottolinea quello che appunto dicevamo precedentemente, ovvero quale sarà il pubblico? E' ancora nato soprattutto un pubblico capace di comprendere realmente quello che dice Lucini. Lucini se lo chiede. E avevamo detto anche precedentemente, questa è la poesia, che sicuramente sempre all'interno delle revolverate, rappresenta in maniera migliore quello che è l'idea di una poesia immanente nella realtà, una poesia anarchica, antiborghese, come quello, come il spirito dell'autore, che può appunto parlare degli eventi del 1898. Nuova ballata in onore degli imbecilli di tutti i paesi. Ecco già il titolo è abbastanza chiaro. In esergo, viene posta un'impigrafe dal Zola, dal ventre di Parigi, che furfanti sono le persone oneste. E inizia la ballata. Gente, chi voglia udire il mirabile ardire degli imbecilli, ritorni in piazza, vi si congredi e stia in molta compagnia. Cod'esta mia ballata, sincera e spassionata, è al tempo grave ed onesta. Vi dice e vi protesta le grandi e disgraziate amenità della gente per bene. Gente, venite qua. La parata incomincia. Va dal bordello, alla chiesa, al palazzo. Vi è, giurmatore, un pazzo che squassa il suo berretto insonagliato. E vi ride vicino a un buon curato, gonfio di cibo e di lussuria. Gente, chi voglia ubbidire, ha pur dimenticato l'abitudine di arrossire. Gli imbecilli regnano. Vi sono gli imbecilli miti e belli, come gli agnelli del mese d'ottobre. Vi sono degli imbecilli inzimarrati, gravi e posati. Ora salto alcuni versi. E ritorniamo alla descrizione degli imbecilli perluscini. Gli imbecilli preziosi sono molto ringhiosi. Hanno il fegato verde di invidia, verde come la vipera, verde come un veleno d'arsenico. Conosco gli imbecilli delle antologie, con le malinconie di castrare le statue, le liriche e disciupare nella melma i fiori. Ho visto l'imbecille discutere il Dio senza averlo cercato nei fornelli chimici. Ho visto molti imbecilli canori come sciacalli che giocavano sui dati, la prima nota e l'ultima di certe canzoni, peregrine non composte ancora. Ho visto gli imbecilli letterati, spudorati per le loro sciocchezze, menarne e vanto, come un incanto d'errori di sintassi e di grammatica. Ho visto l'imbecille al finimondo, gli imbecilli politici, statisti e arringapopoli, sfacciati ed imprudenti, stolidi e paralitici. Tra gli imbecilli e i coccodrilli è poca distinzione. La storia naturale spiega il Natale dell'una e l'altra bestia, dal fango delle inondazioni. E ancora la parte finale, conclusiva della ballata, della lunga ballata. L'imbecille è crudele, bestia rara. Le più rare s'accovacciano dentro all'are, le preclare vanno attorno a buggellare, le più care sono preste a malignare, le più avare danno fondo al fondo al mare. Ora il mar, che fan seccare, stenta un poco a preparare funerali e bare, ma verrà, quando verrà, la calamità. Chissà quanti in quel mattino strilleranno in un cantuccio per la triste avversità. Poco furbi o troppo tardi, per calmare la tormenta si saranno raccomandati alla comoda prudenza dei cerotti mostardati dai magni economisti, gagliardi e liberisti. Alla falsa cuccagna i pitocchi batteranno le mani, i ciarlatani e i ciurmatori fanno a gara coi signori. In nome dei magnifici principi sovrani preparan buona festa pel domani. L'indomani, come prima, si ritrovan l'imbecilli. Portan rose con le spine e fan mostra di sigilli tutti rossi alla coccarda, poiché un cuore di vitella ha dipinto l'animella della nuova croce. Croce verde e croce d'oro, nella scossa popolare, ha fruttato il rosso, l'imbecille china il dosso e lascia svampare quanto bolle e cresce. L'usanza preistorica conclude questa raccomandazione d'essere baro e ladrone sulla rivoluzione. Ma l'imbecille è un uomo a modo, è un animale che sorride sempre. La bella smorfia al viso dimostra il paradiso delle mondecoscienze borghesi. L'imbecille è il proteo ballerino per le monete e per lo zuccherino della moderna mitologia. Ed è l'arpia. L'ugna nasconde sotto il velluto, il danno è conosciuto se la ferita sanguina. Molti degli imbecilli sono canuti, sono i più astuti. Altri imbecilli tirano il grigio, hanno il cuorligio alle galere. Altri ancora sono calvi, sono gli spavaldi della menzogna. E questo è un preciso riferimento ad annunzio e alla sua calvizie. Ballata, le verbene odorano meno dell'etamaio. Ma tutti gli imbecilli sono gente per bene. Gente, ora la ballata tace. Acqua passata ritornerà sotto i ponti a scorrere. Si gonfierà, scardinerà le pile. Ahimè, ahimè. Che vuole questo diluvio? Zitti, passano i zaffi, ovvero i poliziotti. Allunghi baffi come i coati ben incerati e ruotano gli occhiacci. Gente, acqua passata ripasserà. Ed ecco che quindi con questa caustica, con questo caustico componimento, Lucini cerca di dare sfogo al suo messaggio, all'essere quindi un antiborghese, pressoché anarchico. E per concludere le letture luciniane, vorrei a questo punto parlarvi, leggervi il commiato, ovvero il componimento di chiusura delle nuove revolverate. Nuove revolverate che appunto si concludono con un commiato tutto luciniano. Lucini saluta in questo modo i suoi lettori, il suo pubblico, se ce n'è ancora uno, e si dà un po' una risposta a quel perchi, a quel componimento che apriva le revolverate. Ecco quindi che nasce, ospiti, vi metto alla porta. Ora vi metto alla porta, senza altri complimenti, ospiti invenerandi, autofagi perfetti. Non vi saluto, andate. Andate e non ritornate. Non voltatevi indietro come la moglie di Lott. Vi rivedreste in lo specchio fattucchiero, disposto vi a tergo. Nello specchio, intemerato e crudele, avreste paura di voi. O come siate brutti, osceni, avvinazzati, scontorti nelle anchilosi, sgraziati, con le grinte, beffarde e carnivore, con le cosce sciancate, con le schiene gibbose, con gli occhi purulenti, con le labbra mangiate dal lupus, con la scabbia, la tigna, la lebra, esplose di un subito all'orgia, le paralisi prossime venture. Scontate il vostro livore, pagate, così, le vostre sociali iniquità. Poveri vinti, poveri sozzi, trionfo panciuto di vanagloria idropica, sepolcri inverniciati di superbia, tisici compromessi in alleanza sulla ferocia e sugli ignoranza. Mignoni dei preti, dei gazzettieri, dei soldati, oninamente affratellati dalla lue che vi rivisce, andate fuori, andate via. Vi incalzano le immagini, le furie infernali, le vostre proprie arpie. Vi palleggiano, vi giocano, vi flagellano con gli scudisci lunghi e viperini, più vere di voi stessi vi ricopiano dentro le mie moralità. Ancora sulle soglie? Su, camminate a ciondoloni, a sghimbescio, eruttando, craculoni, sbandando alla zozza, a riscossoni, avanti, inciampate per ruzzolare e fiaccarvi le vertebre, ritornate alla melma materna che vi agglutina insieme e vi sempiterna. Eh? Che volete? Svenite, ubriachi, temete di che? Dopo il como, conviene il lento pedere ambulare. Dopo il festino? Schiarinsi i precordi all'aura cittadina vara, fuori, insaziati dalle mie porte, e balbettate ed avete ancora paura, rabbrividite, accennate a colei, numeratrice indefessa sopra la sepoltura, fuori, lontano, vi scaccio, bardassi. Vi guata, vi attende, vi acciuffa la morte. Ed è così che si conclude, quindi, l'ultima esperienza poetica luciniana, quella delle revolverate e delle nuove revolverate, con questa risposta, purtroppo molto negativa, ovvero che il... che Lucini si dà, ovvero che non è in realtà ancora nato, nel 1913, ma neanche tutt'oggi, molto probabilmente, un pubblico che riesce ad apprezzare in tutto e per tutto questo moderno giovenale, come si è voluto presentare varie volte, dalle saporite bestemmie, che è Gian Pietro Lucini. E con questo io vi saluto e spero che vi sia rimasto qualcosa di questo autore così sui generis. Grazie. Grazie.